Siendo come con le drosi un gesto che non merita commenti, un gesto inqualificabile che mortifica la coscienza dell'istituto civile. Non c'è dubbio, Satriana ha avuto in generale una tranquilla esistenza, una vita serena e l'attività dell'amministrazione comunale è stata sempre improntata alla linearità, alla trasparenza e al rispetto delle leggi, delle norme e quindi delle regole. Quindi atti di questo tenore, queste mascalzonate, è chiaro che incombono in maniera negativa sulla nostra comunità e noi non possiamo che condannarli in maniera ferma, in maniera forte perché non meritano alcun commento. I metodi della nostra attività di governo sono sotto gli occhi di tutti e quindi da parte nostra, avendo come pietra miliare sempre il rispetto della legge e delle regole, siamo stati disponibili con tutti. Quando una cosa si può fare, noi sicuramente non ci mettiamo di traverso, ne creiamo ostacoli. Ma il rispetto della legge è la nostra pietra miliare. Quindi chi ha fatto questo gesto ha fatto un gesto vile che deve essere condannato da tutta la comunità in maniera forte perché questi gesti appunto calpestano la democrazia e minano davvero la tranquilla esistenza di una comunità che ha vissuto sempre in maniera serena. Sindaco, si è voluto colpire il cuore dell'amministrazione, la macchina dei vigili preposta al controllo del territorio e la sede della delegazione comunale. Sì, assolutamente. La macchina dei vigili tutte le sere alla fine del servizio veniva parcheggiata qui davanti a questa delegazione che è un punto di riferimento. La maggior parte della popolazione di Satriano, come ormai è ben noto, risiede appunto nella marina e questa struttura è al servizio appunto di tanti cittadini che quotidianamente vengono per richiedere un certificato, per risolvere un problema insomma. E quindi attraverso questo atto si è voluto colpire appunto la macchina dei vigili che sono il corpo di polizia che presiede al controllo del territorio e la delegazione appunto che è il luogo della democrazia per quel che riguarda la marina. Quindi insomma chi ha fatto questo gesto meriterebbe, non so dire manco io quello che meriterebbe, ma meriterebbe di essere messo all'indice, ma sicuramente merita di essere individuato, diciamo, come dire, punito in maniera esemplare.